Allora provo ad buttare la cenere del camino nella tazza, questo è il risultato, è venuta fuori, come faccio? Aiutatemi, aiutatemi, è proprio trabordata, ecco questo è un aiuto online, mi raccomando, condividete su facebook, vedete cosa ho fatto, ce n'avrei anche altro da buttare, condividete su facebook, pronto intervenito e datemi notizie in tempo reale, mi raccomando, in tempo reale.